Siamo arrivati alla fine, cari collezionisti, cari amici, siamo quasi alla competenza dell'Ombra, l'ultimo intervento di manualità sull'ipedialismo di Pilato molto materico, gli ultimi sprazzi di colore che vanno così di getto come a creare un'ombra su quello che è il lavoro finale, ci sono ancora chiaramente in corso dopo dei lavori, voglio per un attimo le danno inquadrare anche il mio socio Tommaso Frisco, ci tengo tanto perché lui di solito è parte integrante di questa cosa e veramente ci teniamo tanto, anche al 13 lo spediamo a Mondadoni, c'è l'artista Pilato che sta lavorando a questa performance, gli devo dire oggettivamente bravo perché è la verità, vi aspetto non a caso tutte le visualizzazioni che state mettendo, innanzitutto grazie perché ci fa piacere una spinta per il nostro lavoro e vi aspetto numerosi il 13 aprile alle 18 e 30, giriamo anche la galleria, giriamo anche le foto degli artisti, sì, quindi anche gli artisti, poi se magari avete sentito solo la voce, no? alla loristica, magari mi fai gli angeli, guardi questi sono i lavori del maestro Pilato, guarda però l'immagine qua, questi sono i lavori del maestro Pilato sono a disposizione per voi e per tutto il pubblico del Capitone Nazionale a questo vi aspetto a questo vi aspetto a questo vi aspetto